È stato abbastanza difficile per noi immaginarsi quale potesse essere il livello di mancanza di libertà di espressione in un periodo quale poteva essere quello del primo conflitto mondiale. Però è stato interessante per noi porci la domanda che cosa avremmo veramente fatto in questa momento. È stata una domanda che tra l'altro ci è stata proprio posta dal regista all'inizio delle prove e che ci ha portato quindi a riflettere proprio a livello personale su quale potessero essere veramente le nostre scelte. Ecco il mio personaggio che è quello dell'assistente è il classico personaggio dell'esecutore. È un personaggio che quasi non si pone il problema. Lui, anzi lei, deve semplicemente eseguire gli ordini che vengono fatti dal capo comico e è proprio il classico personaggio che non prende alcun tipo di iniziativa ma probabilmente nemmeno ci pensa e nemmeno ci prova. Che cosa condivido con questo personaggio? Beh, il fatto di essere un esecutore fa parte certe volte di questo tipo di lavoro, cioè del lavoro dell'assistente che io faccio nella vita come faccio sul palcoscenico per questo personaggio. E quindi ecco devo dire che non è stato per niente facile per nessuno di noi cercare di ricreare quelli che potevano essere i sentimenti di quegli artisti, le idee di quegli artisti è stata ed è la nostra grande sfida. Grazie a tutti.